Torniamo adesso a parlare della questione sicurezza, della visita della Ministra Lamorgese con il servizio di Luigi Carbone. Il numero unico per l'emergenza, il 112, sarà attivato in tempi brevi e gestito in campagna da due centrali da realizzare una a Napoli, l'altra a Sarno in provincia di Salerno. È delicato il problema dell'assunzione, della formazione del personale. Abbiamo un centinaio di persone da assumere, da formare. Sulla morsa della criminalità nell'area nord di Napoli, Arzano, Fratta Maggiore, Fratta Minore e Caivano, De Luca spiega. C'è l'impegno da affrontare in maniera efficace alcune situazioni simboliche. Confermo l'impegno ovviamente per quanto riguarda un'emergenza che si è determinata ad Arzano. Riconfermiamo l'impegno a finanziare un'operazione di realizzazione di impianti di videosorveglianza. Abbiamo già fatto queste operazioni a città di Napoli, in alcuni quartieri a rischio. Nel giorno in cui il paese esce dall'emergenza Covid, il governatore evidenzia un dato. Concludiamo questi due anni di emergenza pesante, essendo la regione che ha il numero più basso d'Italia di decessi Covid. Resta ora, conclusa l'emergenza, l'incognita delle spese da sostenere. La campagna ha certificato finora 500 milioni di euro di spesa per fronteggiare l'emergenza Covid. Molto meno di regioni meno popolose, ha osservato De Luca. La campagna ha certificato finora 500 milioni di euro di spesa per fronteggiare l'emergenza Covid.